salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di mio due assetto falcione benissimo preso il bacione in quella casa in quella catapecchia qua non sono entrato vediamo cosa c'è di bello non vedo l'ora insomma sì e ovviamente qui si apriano dall'altra parte ovviamente che che discorsi faccio vediamo un po cosa possiamo fare dovevo andare di là lo so però poi intanto ne volevo approfittare per disanguare un po di risorsale come si dice quando si presciuga bravo quello lì non mi veniva allora no di qua ma di qua sperando che ci sia un santuario col cassa mi ha risposto perfetto c'ero tanto contento qui ci sarà un dito in culo guardate che stronza c'è proprio bastarda fino all'osso mamma mia che testa di casa mamma mia non ci credo sì sì adesso vivo che da te ma porca miseria lo vado anche guardato in alto ok il nostro micione è già dato via ma non ci è durato molto eh allora aspetta aspettate un attico ma anche io già l'inculato l'ho preso non vuole prendere un'altra ma quel coso è da per tutto porca miseria è da per tutto quel coso ci vedete non è che sia tanto facile batterlo è insomma non è che una passeggiata vediamo tac tac no questa non mi piace ci ha tolto tutta la vita o mi è sembrato me no chiedo è perché sapete molti succedono cose strane ed eccoci ritornati ok adesso piano piano cerchiamo di riprenderci il nostro il nostro il nostro insomma sì rispettinati con le signore signore insomma coso eccoci qua no no non ha capito un cazzo dalla vita ok ok visto a come si è fatto fare fregare bravo a come così si fa che è rigenerato che bravo che bravo personaggio che è tutto a cui dalle mission fatti in culano volta basta però è insomma eccoci qua non male che abbiamo il nostro incantamento che rallenta è sennò erano casi da cacare ha fatto prendere un cazzo di corso eh ma allora tutti adesso eh siete proprio stronti ecco a come è arrivato eh aspetta 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 un attico non è stata colpa sua non mia porca miseria mi dispiace ma a come l'ha fatto lo stronzo non è colpa mia vabbè c'è dato il lupo eh non so mi dispiace non ho fatto apposta ma qui c'è un kodama fatemi vedere va è di sopra è di sopra eh scusate non avevo capito c'è un kodama lo prendo insomma sì allora kodamuccio kodamuccio dove sei? eccolo qui perfettico e poi c'è un altro kodama vede un altro mi vedo oh la ah ma qui eravamo non lo so dove eravamo non ne ho propria idea dove si assomiglia ma non penso sia quella anche perché c'era gente io mi ricordo oh cazzo devo proprio non avrei molta voglia di andarci ecco ma ci ho fatto prendere un copacqua oh porca vacca eh sono caduto vabbè intanto lui si diverte insomma è che se vado su faccio un po' come la vazza dopo non ti non so più allora c'è voglia non è così che dovevo andare ohpla ohpla eh ohpla eh ma è lento signore signore insomma cosa eccoci qua ok eh si è fatto tanto malo mi dispiace eh siete scelti si è alzato da ora eh ah stavo dicendo adesso purifico l'aria ma sto cazzo allora c'è un altro kodama solo che adesso non lo posso vedere perché siamo nell'aria tutta enzaccherata eh magari dopo eh ok eh sapevo io che c'era uno qua che lo preva i marroni ok allora prima di la santa miserica mi ha fatto prendere un cazzo di colpo ok ma porca la miseria c'è che mi ha fatto cacare in mano oh santa miserica mi ha fatto cacare in mano ma prendi lo sto coso cioè beh sì eh siamo stati indietro vero? più o meno si aveva aperto oh cavoli allora devo andare qua sopra cioè devo andare a spaccare il culo questi ok questo qui mi va bene ah non l'ho ucciso vabbè riportate che viene lui poco importa ma si è fatto male da solo perché c'è per pirla eccoci qualcosa è andato oh salve qui ci sarà qualcuno sicuro e qualcuno se non lo sapessi eh ok ok altro c'è acqua perché ti senti in vena oggi ok prendiamo anche questo e abbiamo fatto quindi è aperto eh peccato non c'è dato un cazzo non c'è dato adesso torniamo noi questo si ammazza così mi è arrivata una zanzara in bocca accidenti ecco qua seat seat ok perfetto direi che gli abbiamo spaccato il culo voi cosa dite cosa fai ah con me non si fa così eh ok anche questa è andata e adesso prendiamo il nostro dovuto perfettico è andata benissimo vediamo se c'è qualcos'altro qua aspettate che ci sono imberborati e qui c'è una scala non è che c'è anche una porta sì c'è la porta ho capito dove siamo c'è un miracolo eh chi è che l'ha detto e insomma abbiamo lasciato anche un kudama in giro sicuramente ok adesso proviamo a salire ma magari dopo eh salirei un attico e sapete vediamo un po' dove si va oh salve ok ah come mi ha la mano da perché show me la c'è in un'altra o c'è un caduto vabbè mi si diverte io per carità non è che dico qualcosa però se magari la uccide anche senza farsi incidere lui magari eh porca miseria ok qui non prende il pezzo mi sbrodano addosso dei gemiti dei versi dei salsicci eccoci qua sì sì tipo di fare lo tenito io ok vai ci è arrivato a come è fatta la sua ecco adesso che cazzo ecco qua mi siamo a posto lui si è proprio buttato eh si se ne frega tanto c'è lui io qua va bene vediamo se c'è altro sembrerebbe di no adesso andiamo sopra chissà quanti e quanti sudare Kodama ho lasciato in giro no no a te non mi piace per un cazzo te lo dico proprio col cuore eh to proprio ho scevito tanto ma povero scemo eccoci qua faccia boia mi ha fatto mi ha fatto sudare so vediamo un po' e qui c'è un Kodama è di sotto mi va bene perché lo voglio andare a vedere ma penso di ricordarmi dove adesso entro un attimo nella baita qui vediamo se possiamo fare qualcosa ci sono le scale era ok si si adesso ho capito mi ricordo scusate devo fare un monte locale era sul balcone e doveva buttarci giù da una parte del balcone però adesso non ricordo quale ma si doveva intravedere dovrebbe anche perché qua non ci fa buttare mi sembra qua adesso non mi ricordo bene andiamo piano eccolo qui perfettico è un altro Kodama è preso che qualcuno ha dovuto fare un monte locale un attico mi ha dato impazienza salve frecce mi sembra che li avevo finite tutte ammazzando i come si chiamano i ledi vivi ho fatto un casino off camera credo che non avete l'idea ok perfettico ecco qui qua mamma mia è tutto questo casino non abbiamo preso un cazzo beh perfetto direi che è andata bene ok possiamo andare abbiamo ammazzato tanta gente non mi ricordo dove devo andare eh adesso scende un attico non mi sono dimenticato scusate io sapete che riesco a perdermi ovunque comunque allora di qua siamo andati abbiamo liberato la zona di qua abbiamo fatto dovremmo andare di qua in teoria è dura orientarsi qui è parecchio dura ecco qua allora qua non ricordo se sono non mi sembra che ho preso il beccione o qualcosa del genere ah non ho preso un cazzo invece sono stato bravo eh ok scusi vabbè fatto così lui vai dammi qualcosa grande oh salve lei non me l'aspettava in certo momento sa ok diciamo che li ho finiti ok oh se vuoi ha fatto questa diceva che faceva l'altra ecco qua fatto e questa è andata poi cos'altro dobbiamo fare oh mi ha pulificato l'aria che meglio vediamo un pochino se riesco a orientarmi ecco adesso lui ci abbandona ci abbandona e così lui non possiamo fare niente adesso noi siamo da soli purtroppo purtroppo eh si si fatti non sono una persona timida vabbè visto che diciamo dunque abbiamo qua 60 dai ecco visto che diciamo andò una luna e prendiamo un altro dai insomma reaspectio si chiama diciamo che bel nome ah era di là che dovevo andare va bene allora se non ho altra sieltà andiamo di qua no ecco se se ne è andato c'è ah c'è un micione non ho mica visto il supertole gattono no non c'è il micio ah sì che c'è il micio infatti ho detto l'avevo visto carezza e così siamo in tre se si può dai due e mezzo dai insomma va bene lo stesso allora vediamo un po' eh sono riuscito a ritornare al nostro punto è stato bravo bravo eh eh che cazzo eh qui c'era qualcuno adesso mettiamoci il nostro amato arco eccoci qua se c'è qualcun altro lo amassiamo e siamo venuti a porta ovviamente non me ne era corto ecco qua non male che non ci ha fatto cadere e questa è andata è fatta cerca cerca chi cerca trova aggotti paralisi chissà perché oh sudama chissà perché ce l'avrà dato no allora qui ci sono già cazzi da cacare tanto da cacare allora vediamo un po' magari così facciamo un po' più male voi cosa dite no eh c'è un viceverso ahia non ho più tu ce la puoi farcela ci ha fatto male a tutti e due ok valla che stavolta ti ho visto perfetto questa è andata adesso prima di andare là vediamo qua cosa c'è e c'è un'altra tu guardiamoci tu muori poi piano piano vediamo che l'altra se ci riesco eh non ci riesco mi balla il dito oggi ok aspettate un attimo che vi metto in una situazione un po' meno di merda ok salve lei non mi piace per un cazzo lo sa ok signor stronzo eh buona notte non riuscirò mai a prenderlo ma sai che sapete che dico io vi dico cioè vado un attimo qua tutto il cazzo salve lei non mi piace ancora di meno sa porca miseria ma dove cazzo è andato non ci credo mi ha puntato un altro non ci c'è è successo un casino il lock ha funzionato a cazzo in culo e io l'ho preso in culo ok ci sono ci ho messo mezz'ora trovata la strada porca miseria è un po' tutto un labirinto questo posto adesso se vuoi ci è riuscito bene lui però non l'abbiamo preso adesso venisse giù se venisse giù niente che viene giù per me non viene giù rimane lì per me pollo com'è guardate dai gigrobò se vuoi però c'è una mira che fa paura e niente mi fa prenderlo forza a me ok così almeno ce ne portiamo dietro un po' perché se no è un cazzo di casino qui questo sì ho chiamato aiuto come avevo fatto prima ok perfetto questo è andato e adesso dobbiamo solo pensare a questo stronzo che rompe i marroni come pochi è andata adesso c'è un'altra simpatica donna che deve ammazzare porca miseria vediamo un pochino c'è un kodama laggiù però salve lei non mi fa appunto paura però ecco c'i denti aspettate ma ahia ho riuscito a prendere bravo adesso aiuto io però guarda guarda che porca miserica eccoci sapevo che era è morto anche mio però porca miseria certo che l'ho drolucato porca vacca allora vediamo un po' se riesco a prendere il mio kodamuccio mi sono posto a quanto pare no che giro astruso devo fare a parte che qui mi sa che è il finale si l'ho sentito adesso arrivo opla facendo un attico porca vacca questo se lo mangia dopo un casino ecco qua poi qualsiasi volta eccia poi si fa così è inizio è andato via ah era quello che era avuto di qua eh non è proprio un grandissimo luoco per per ah è morto ok se facessi invece così tanto che me lo fa fare no eh scusate tanto è facile e stiamo andando verso la fine ma io non volevo andare verso la fine perché dovevo andare a prendere il kodama che adesso non mi ricordo più dov'è l'avevo visto dovrebbe essere sopra una sopra elevata e ci andiamo da sotto perché qui è un posto un po' brutto per fare esplorazione insomma si dovrebbe essere di qua è di sopra sono abbastanza sicuro che sia di sopra quindi devo fare un giro un po' struso per arrivare di sopra e quindi si vediamo come fare devo assolutamente togliere l'acqua da qua e devo andare di qua ok tutto chiaro allora questo lo rompiamo gli rompiamo il culo e siamo a posto questa non abbiamo fatto un cazzo e siamo a posto bene sono contento vediamo un po' che te sei in arbitura di coglioni senza fine ok ok questo è andato oh già mai ci hanno tirato sopra già sopra ci hanno tirato adesso vediamo cosa possiamo fare dai eh sì non è per niente buono qui c'è anche l'ombrello c'è l'ombrello eh insomma abbiamo finito anche le frecce beh è già tutto bene dai porca miseria ok è venuto a trovarci molto gentilmente così siamo a posto poi un'altra cosa che dobbiamo mettere a posto è questo il lock non funziona beh sono contento allora siamo un po' nella merda però se facessi così magari ok mi si sfoga ok questo mi sfogo io però ahia chi ha la vacca col gin porca vacca è proprio forte eh è perché siamo nel suo regno ovviamente no no aspetta accidenti devo assolutamente ammazzare qualcosa da su sennò questo ci danneggia di brutto ok vieni qua dai ok ok perfetto adesso è un altro paio di maniche vediamo un attimo prendere tutto dobbiamo semplicemente oh salve andare di sopra dopo c'è il codama dai tutto quanto qui si può prendere apri ah e buonanotte oh salve rosario e qui si dovrebbe essere una leva per buttare giù tutto sono sciolto che da panico perfettico dovremmo essere proprio a casa di qua se ricordo bene però devo andare assolutamente di sopra di sopra come cacchio ci vado da lì da lì perché c'è anche lei eh adesso piano piano facciamo tutto eh non c'è più cazzo ok allora aspetta un attimo solo ma da prima visto porca facca vieni vieni ora forse c'è vuoi ma io devo farne due qui eh è andata proprio bene beh ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare qui questo video di tutto io vedo come al solito se non dà anche un commento ci piace le serie ma invece bianco se ne pensate per la suite sotto Shiva ciao ciao ciao